25 anni sono passati dall'inizio della prima guerra del Golfo, è cambiato il mondo, la guerra è entrata dentro di noi, come si può commentare questo fatto che non si è riusciti a fermare una guerra che aveva tutte le caratteristiche per indicare un mondo peggiore di quello che è? La gente è stanca anche perché viene messa quotidianamente di fronte ai problemi della vita di tutti i giorni, deve affrontare problemi sul lavoro, sulla sanità, nell'istruzione e non ha più voglia di pensare a questo. Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione proprio perché invece questo anniversario, questa ricorrenza va rimarcata, va sottolineata perché la guerra è attuale, perché la guerra si riflette nelle nostre vite tutti i giorni. È illusorio pensare che un gruppo di attivisti possa fermare gli interessi di Goldman Sachs, Morgan Stanley, tutto il complesso militare e industriale, vanno avanti, non ascoltano neanche il Presidente degli Stati Uniti, dettano loro gli ordini. Però questo non vuol dire che la grande manifestazione del 91 non abbia avuto un suo effetto, ha avuto un enorme effetto, quindi chi dice che la manifestazione non è servita a nulla, sbaglia, non ha fermato la guerra perché non poteva fermare una guerra. Tuttavia ha fatto sì che dal stile Rambo Bush, io entro con i stivali dei Marines in Iraq, si è passato a uno stile soft, ecclissato Obama, cioè uso dei drone che non si vedono, poi metto su ISIS in Iraq e in Siria che non sono soldati americani e via discorrendo. Quindi facciamo le guerre sì, ma in modo più discreto, sto parlando in modo ironico adesso, ma è un enorme spreco di soldi per poi fare in modo che le industrie americane possano, le aziende americane possano andare nel mondo e avere il vantaggio che ti dà quando vai in un paese dove c'è una base nata e cosa vuol dire che i militari hanno infiltrato i militari del paese e quindi il governo del paese e quindi tu puoi avere i permessi come vuoi, tu puoi fare da americano in quel paese lì, quindi le basi americane dappertutto è un'arma economica tanto quanto militare. Si è detto quando ci fu la grande manifestazione contro la guerra del Golfo che il movimento vicefista era la seconda potenza mondiale, perché ha perso? Probabilmente siamo divisi, anche su un tema così importante, vitale, siamo divisi. Io non me ne rendo neanche più conto il motivo vero, se ci sono poi anche lì interessi che contrastano, perché è veramente difficile. Anche oggi vedere qui dovrebbe essere una piazza stracolma, noi vediamo se camminando migliora, se ci diventiamo di più. La guerra è all'interno della pelle anche dei giovani d'oggi in Europa e in tutto il mondo, la vediamo nei telegiornali, la vediamo nelle televisioni, nei giornali, nei libri, dovunque, quindi la guerra, la violenza, la crudeltà, la barbarie, queste sono cose che abbiamo interiorizzato. Da questo però riusciamo a vedere qualcosa di diverso, riusciamo a vedere una società migliore, una società senza guerra, senza barbarie, una vera civiltà. A partire da questa violenza riuscire a spostare la visione da una rabbia fino a se stessa a una lotta invece concreta, ma la lotta non va creata, va solo spostata in utilità, perché la lotta già c'è, già esiste. La risposta è lasciare che quei contesti territoriali, statali si emancipino da soli, combattano il terrorismo che hanno all'interno, ma senza un'ingerenza internazionale che è sempre interessata tra l'altro, non è mai sinceramente volta a combattere il terrorismo, visto che l'ISIS in particolare è stato ed è ancora finanziato da una serie di stati che fanno parte della Nato o che comunque hanno rapporti con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea. Come nasce l'idea di questa manifestazione, questo appuntamento a 25 anni dall'inizio della guerra del golf? Bisogna reagire a questa passività che c'è oggi e quindi abbiamo scelto, anche perché non è che siamo di fronte, non è una celebrazione che stiamo facendo, in queste ore, in questi giorni tutti i giornali, i mass media italiani stanno preparando con una campagna mediatica violentissima la guerra in Libia, bisogna capire che non è che stiamo di fronte al passato, questa guerra continua e va avanti, noi ci prepariamo, mi pare evidente all'intervento militare italiano in Libia che sarà una catastrofe e provocherà tragedie secondo me di cui forse non abbiamo ancora la dimensione e tutto questo avviene nel silenzio vattato dell'opinione pubblica, questa manifestazione è stata totalmente censurata, due persone che sono del palazzo si mettono a discutere e ci sono 50 telegiornali sopra, qui noi siamo stati ignorati, non c'è il gruppo di persone, quindi io sono soddisfatto e so anche però che non basta perché, ripeto, noi siamo di fronte a una censura totale del regime, di fronte a tutto ciò che va controcorrente davvero, quello che va controcorrente per finta è utile, quello che va controcorrente davvero viene cancellato. iscriviti al canale